Rieccoci di nuovo. Buongiorno per un nuovo appuntamento con il nostro Caffè Con, lo spazio dedicato all'approfondimento dopo la lettura delle notizie principali del giorno. Ebbene, sulle prime pagine dei giornali, oggi e non solo oggi, uno dei capitoli più caldi è quello destinato alla sicurezza. Le Marche, la nostra regione, ecco, stando anche al report del Ministero degli Interni, sono tra le regioni più sicure d'Italia. Ma che cosa accade se ingrandiamo la lente sulle varie realtà marchigiane? Ebbene, è una domanda che giro al nostro ospite di oggi, l'assessore con svariate deleghe su tutte quelle alla sicurezza del Comune di Macerata, Paolo Renna. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Jessica. E allora, vado a leggere le sue deleghe per una maggiore precisione. Polizia locale, sicurezza e legalità, protezione civile, ma anche decoro urbano, parchi pubblici, frazioni e quartieri. Insomma, ne abbiamo da dire. Però, assessore, con lei vorrei appunto fare il punto, mi scusi, il gioco di parole sul capitolo legato alla sicurezza, che so l'avete molto impegnato, tra le altre cose. Sì, la sicurezza per quanto riguarda la nostra città, l'impegno è praticamente costante. Devo dire che abbiamo anche un'ottima sinergia con tutte le forze dell'ordine e con la Prefettura, e questo fa sì che si lavora molto bene. Abbiamo strutturato la polizia locale per renderla più una polizia vicino al cittadino e al servizio del cittadino, non solo multe e quant'altro. E questo ci ha fatto la differenza. Noi, quando ci siamo insediati, eravamo cinquanta seiesimi in Italia come città a livello di sicurezza. Oggi siamo nella top ten. Che cosa ha determinato questi buoni risultati? Sicuramente, da quello che abbiamo osservato, è stato il collegamento all'SCNTT di Napoli, che sarebbe il Servizio Nazionale Target Transiti, che fa la differenza, cioè ogni macchina che entra nella nostra città in tempo reale emette un alert qualora quella macchina sia segnalata al database della Polizia di Stato. E questo permette evidentemente di prevenire? Assolutamente sì, le forze dell'ordine sono allertate in tempo reale qualora entri una macchina già segnalata o comunque scritta allo SD. E questo fa sì che si riesce poi ad organizzare in maniera tempestiva il fermo di quel mezzo. Senta, Assessore, a proposito di Polizia Locale, lei saprà meglio di me che alcuni suoi colleghi, altre amministrazioni delle Marche hanno alla fine deciso, non senza mal di pancia va detto, di dotare gli agenti della Polizia Municipale di armi. Ecco, lei è dello stesso avviso? Ci ha mai pensato? Ma guardi, la mia Polizia Locale è armata penso oramai da una venticinquina d'anni e non solo quello, noi abbiamo investito anche lì molto sulla sicurezza del personale tant'è che abbiamo fatto circa 21 mila ore di fornè. Questo perché? Perché oggi soprattutto con l'istituzione del reato di tortura le forze dell'ordine devono essere altamente professionali quando devono fare un arresto e quindi sì, io sono molto favorevole perché l'ingolumnità del personale viene prima di tutto e tutti. Benissimo, parlando sempre di sicurezza, le spycam, le cosiddette telecamere di videosorveglianza nelle città, abbiamo visto, lo vediamo, lo apprendiamo anche dai giornali, sono un apporto utile alle indagini, sempre parlando in termini di prevenzione. C'è, ci sono delle novità, una nuova dotazione per la sua città? Sì, noi stiamo portando avanti un progetto, è arrivato quasi a compimento, che era stato finanziato, cofinanziato dal Ministero dell'Interno di circa 200 mila euro complessivi, in più oltre a quelli come giunta abbiamo stanziato nell'anno 2023 ulteriori 70 mila euro per andare a colmare quelle lacune che con quel progetto non riuscivamo a colmare. Posso tranquillamente assicurare che laddove abbiamo una videosorveglianza sicuramente c'è una sicurezza aggiuntiva e lo ha dimostrato anche sotto il periodo natalizio con la serie di furti, che gli autori di quei furti sono stati comunque intercettati e riconosciuti attraverso le nostre telecamere. Ma c'è un allarme furti in città o si tratta di singoli episodi isolati? Ma guardi, ringraziando il Dio, no. No, Macerata in questo momento non ha un problema di furti come magari le aveva in passato. Questo è dato sicuramente molto anche dalla videosorveglianza. Devo dire che dove abbiamo le telecamere sicuramente c'è un presidio in più. Ma la differenza, e questo mi fa molto piacere, nella nostra città la fa anche la stretta collaborazione che hanno i cittadini con le istituzioni. Cioè, nel caso di specie? Cioè, noi abbiamo tante segnalazioni di piccoli eventi e riusciamo spesso a prevenire possibili furti. Chiaro. Le 40 telecamere con un investimento più o meno intorno ai 200 mila euro sono arrivate? Sì, sono in fase di collaudo, sono state installate tutte. E prossimamente arriveranno gli altri 70 mila euro di investimento, anche quelle a terra. E dove saranno posizionate? Allora, noi ci siamo concentrati nelle zone strategiche della città che non erano videosorvegliate. Lo Sferisterio, la piazza dello Sferisterio, che è piazza Nazario Sauro, i Corsi, Cavour e Cairoli, i giardini di Iaz e i giardini delle Giuseppine, il pacco di via Isonzo, e poi altri punti strategici nel centro storico. Senta, a proposito di giardini, di parchi verdi, lei ha citato poco fa i giardini di Iaz. Domani, in occasione del sesto anno della morte di Pamela Mastropietro, ci sarà una fiaccolata che partirà proprio dai giardini di Iaz, luogo in cui purtroppo Pamela il 29 marzo 2018 incontrò Innocent Osegale e insieme si diressero verso casa di lui, dove sappiamo la mattanza, l'orrore che si è consumato in via Spalato. Sì, ci sarà un evento per ricordare Pamela, Pamela fa parte della città, noi siamo molto vicini e in contatto spesso con la famiglia, perché credo che come città abbiamo un dovere morale di tenere sempre alta la guardia, perché quello che è successo a Pamela non debba mai più accadere. Sarebbe bello poterlo affermare con assoluta certezza, per il momento sono soltanto speranze, ma immagino che dopo la sentenza della Cassazione con la condanna definitiva all'ergastolo a Macerata si sia attirato un sospiro di sollievo, perché poi tutta la città è stata inevitabilmente travolta da quella terribile fatto di cronaca e sconvolta soprattutto da quell'orrore. Ma quella ferita è rimasta ancora aperta, perché Macerata comunque è una città molto attenta e molto sensibile. Siamo stati contenti, soprattutto per la famiglia, perché io sono fermamente convinto nelle funzioni dello Stato e nella giustizia, e quando la giustizia fa il suo corso sicuramente ci rende tutti i più felici. C'è ancora un dubbio, perché difficilmente si riesce a credere che una persona sola sia riuscita a fare quello scempio sul corpo di Pamela, ma la giustizia a questo ha sentenziato, se ci saranno nuovi risvolti la città sarà sicuramente con la famiglia. La famiglia infatti ne è convinta, e poi lo ascolteremo peraltro oggi, perché la mamma di Pamela Mastropietro, Alessandra Verni, sarà ospite della nostra trasmissione insieme al suo legale, che peraltro è il fratello e zio di Pamela, Marco Valerio Verni. Ci spiegheranno perché a loro dire ci sono degli elementi, peraltro compresi negli atti a disposizione della Procura, che fanno pensare che ci siano possibili ulteriori persone coinvolte. È chiaro che su questo la Procura si è espressa con delle archiviazioni di altre posizioni, ma se è bene fare giustizia, andare in fondo fino alla fine, è giusto che eventualmente poi questi ulteriori elementi vengano presi in considerazione. Seguiremo naturalmente questo caso come facciamo da sei anni a questa parte, vorrei portarla sulle pagine dei giornali di oggi per commentare un po' insieme le notizie in primo piano che riguardano Macerata. In primo luogo troviamo il destino del CUS, le mostro subito l'articolo oggi presente sul Corriere Adriatico, costretti a ridurre le attività sulla realizzazione del nuovo polo sportivo, che però rischia di vedere spezzata la sua realizzazione. Siamo nella zona di Santa Croce a Macerata. Ci può dare un aggiornamento se ne accontezza? Sì, allora per quanto riguarda il CUS, per quello di cui sono a conoscenza, io so che stanno andando avanti speriti i lavori, ma sono lavori abbastanza importanti. Sono posizionati nella zona di Santa Croce e poi delocalizzeranno tutte le attività del CUS dalla zona di Via Valerio, dove attualmente ha sua Santa Croce. Mentre nella zona di Via Valerio, noi con il progetto PINQUA, un progetto di riqualificazione urbana, andremo a trasformare quell'area che una volta trasferito il CUS sarebbe rimasta praticamente una zona in abbandono ad una zona in cui andremo a costruire delle nuove case popolari interamente finanziate da questo progetto. Una delle direttrici dei fondi PNRR è proprio il recupero, la valorizzazione anche delle periferie. Ecco, come siamo messi in quel di Macerata? Allora, a Macerata, noi sulle periferie, io la delega alle frazioni, abbiamo avuto un'attenzione molto particolare. Per quanto riguarda la frazione di Sforza Costa, ci siamo concentrati sulla sicurezza idrogeologica, stiamo lavorando molto in quella direzione, anche nel recupero di zone abbandonate. Per quanto riguarda Piediripa, abbiamo pensato a recuperare alcuni parti pubblici che erano in stato di abbandono e abbiamo lì vinto, grazie al Bando Sport e Periferie, una costruzione di una palestra polifunzionale che sta andando avanti in maniera anche spedita. Su Villa Potenza, che era la zona più isolata per quanto riguarda la città, ci siamo concentrati sulla Social Valley, ovvero con il progetto IT2 abbiamo pensato di valorizzare la parte naturalistica sportiva della frazione e con diversi investimenti andremo a riaprire il parco di Rota Cuba, che è un parco tanto caro agli abitanti di Villa Potenza, ma oramai all'abbandono da circa 30 anni e a valorizzare in maniera più significativa e più costante anche l'area archeologica. Non solo, abbiamo fatto anche investimenti nel nuovo centro fiere che è addirittura d'arrivo proprio per lanciarlo in maniera importante. La porta ora sulle pagine del resto del Carlino. Si parla di viabilità, quindi non proprio come dire la sua delega specifica, però c'è stato un incontro tra l'amministrazione e i cittadini per la rivoluzione della viabilità alla pace. Sono arrivate anche le proposte dei residenti che chiedono di vagliare un'alternativa per ridurre il traffico pesante. A Macerata c'è un problema di traffico, di caos, viabilità? Sì, Macerata paga da sempre la mancata intervalliva. Devo dire, ringrazio, ne approfitto per ringraziare sia il Governo centrale sia il Governo regionale per ingenti fondi che hanno stanziato per la nostra città e per la realizzazione dalla vallata del Chienti, della Campociano Pieve, Pieve via Mattei e per quanto riguarda la vallata del Potenza per la strada a scorrimento veloce Montanello Villa Potenza. Sono progetti già avviati, la Campociano Pieve, Pieve via Mattei è in gara, quindi partiranno i cantieri molto velocemente, mentre per quanto riguarda la vallata del Potenza ci vorrà ancora un po' più di tempo. Io sono nato al La Pace, quindi conosco benissimo quella situazione. La Pace è un quartiere che soffre la viabilità esterna, non tanto quella interna al quartiere stesso, perché è una porta d'ingresso e non avendo vie alternative oggi i nodi vengono al pettine con la ricostruzione sisma della zona tra Via Zorli e via Maffa Pantaleoni. Noi anche lì avevamo messo sul progetto Pinqua 1 una strada che collegava via Borghi, via Zorli, via Zorli, via Le Pancalducci, cioè una parallela alla strada attuale della Pace che serviva poi per sgolfare tutta la zona stretta del quartiere e l'ingresso alla città. Purtroppo è stata accettata ma non è stata finanziata dall'epoca, chissà se un domani scorreranno quelle graduatorie, noi saremmo davvero felici di questo. Senta, parliamo di sicurezza, un tema che coinvolge in qualche modo anche la viabilità, avrà sentito in questi giorni l'ampia discussione attorno alla istituzione delle cosiddette zone verdi che prevedono l'introduzione di limiti di velocità massimi all'interno dei centri città. Su questo la vostra amministrazione come la pensa? Ma guardi, spendo due parole perché di verde non hanno niente le zone 30, a parte che a Macerata il centro storico è già tutto zona 30. Abbiamo diversi punti della città, io abito nella frazione di Villa Potenza, sia all'ingresso del borgo, Borgo Peranzoni, sia la parte dove sono le scuole sono attualmente in zona 30. Però voglio soffermarmi proprio sul discorso di verde. Chi è leggermente a conoscenza di come funziona un motore e le macchine moderne sa benissimo che soprattutto i diesel a quella velocità inquinano 10 volte tanto rispetto ai 50 km orari, ma proprio perché quelle macchine vengono studiate per poter camminare a 50 km metri orari all'interno dei centri abitati e quindi inquinare di meno. Andando sotto i 30, per esempio il diesel entra in funzione la valvola ECR, che è una valvola che riutilizza i gas di scarico, proprio perché? Perché altrimenti non riuscirebbero a rimanere nei parametri della UE. Tant'è che quando uno va a fare la revisione, se ci fa caso, la macchina viene alzata di regime dei giri del motore proprio per rientrare nei parametri, perché altrimenti a bassi regimi la macchina inquina molto di più. Quindi chi parla di vie verdi dice una grande castroneria. L'altro discorso è per quanto riguarda la sicurezza. Io che vado spesso in macchina e ho molti km alle spalle, non credo che sia la zona 30 a determinare un abbassamento degli incidenti. Le statistiche dicono infatti che non è così. Ma perché dico questo? Perché uno rimarrebbe spesso concentrato di più a guardare il contachilometri piuttosto che la strada. Mentre nei 50 orari le macchine vanno via lisce, per quanto riguarda i 30 bisogna avere un'attenzione molto molto maggiore. In realtà la maggior parte degli incidenti avvengono proprio per distrazione e bene ha fatto secondo me il governo a inasprire le pene per quanto riguarda l'utilizzo del cellulare alla guida, che poi quando andiamo a vedere la maggior parte delle volte, soprattutto in città, è dovuto a quello e non all'alta velocità. Senta, per il 2024 che cosa dovremmo aspettarci e cosa sta lavorando? Allora per il 2024 sarà un anno ricco di cantierizzazioni perché noi metteremo a terra il progetto Go Green che è la riqualificazione dei giardini delle Vergini, giardini di Geppino Micheletti, i giardini di Iaz, il parco di Fonte Scodella e il parco del Sasso d'Italia. Partiranno i lavori delle ciclo pedonali della città di Macerata, un anello di circa 40-70 chilometri che andrà a valorizzare sia le parti fluviali del Chienti e del Potenza, ma sia i collegamenti tra i quartieri. E per ultimo, ma non sarà proprio l'ultimo, partiranno i cantieri delle scuole e soprattutto finiremo di sistemare anche l'asfaltatura di via Mattei che attualmente è la strada principale della città. Abbiamo già deliberato in giunta e in prima e tarda primavera inizia l'estate, così mi dice il collega dei lavori pubblici, partiranno i lavori anche lì. Bene Assessore, noi ci avviciniamo alla conclusione, vorrei però cogliere un suo pensiero visto che è notizia di questi giorni dopo il terribile incidente avvenuto venerdì scorso che ha coinvolto il sindaco di Matelica all'esito della cerimonia di inaugurazione del nuovo ufficio speciale per la ricostruzione. Massimo Baldini è stato operato, si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del torrette di Ancona dopo un intervento di otto lunghe ore, visto che tutta la politica, a prescindere, giustamente si fa così in questi casi, dall'appartenenza politica, ha espresso vicinanza, se vuole insomma do anche lei modo di poter esprimere un pensiero. Vale, la ringrazio anche perché Massimo è un caro amico, io sono tutti i giorni in contatto con l'amministrazione di Matelica e la nostra vicinanza è totale. Speriamo che Massimo, che è un grande combattente, vinca anche questa battaglia. Noi gli siamo vicini, siamo vicini a lui, alla famiglia e a tutta l'amministrazione e la cittadinanza di Matelica. Quindi forza Massimo, non mollare. E ci auguriamo davvero anche noi lo stesso e tra poco sentiremo un aggiornamento proprio sulle condizioni di Massimo Baldini. Per il momento la ringrazio, grazie all'assessore Paolo Renna, assessore con delega alla Polizia Locale, Sicurezza e Legalità Verde, parchi pubblici e frazioni. Spero di non aver tralasciato niente del Comune di Macerata. Le auguriamo buon lavoro e a risentirci presto, assessore. Grazie a voi, complimenti per la trasmissione e buon lavoro anche a voi. Grazie davvero, buona giornata. Noi amici ci fermiamo qui per una breve pausa. Vi ricordo che alle nove torneremo con una nuova puntata di Veramattina anche oggi. Spazio alla cronaca e gli ultimi aggiornamenti. Avremo la mamma di Pamela Mastropietro e ancora tanti altri casi, le storie, i nostri inviati che ci faranno il punto dai territori. Dunque vi invito a seguirci tra poco. Grazie a tutti.